Corti d'animazione di tutto il mondo a confronto a Roma, è il Festival Cortuns. Dal 24 al 28 marzo al Teatro Palladium dell'Università Roma 3, Cortuns, Festival Internazionale di Cinema di Animazione. Tra i lungometraggi in concorso il francese Panicco Village di Stefano Biereven-Sampatar, l'argentino Bughi e l'Asetoso di Gustavo Kovac, una gran varietà di cortometraggi di animazione e a videoclip animati. In concorso ci sarà anche Logorama, vincitore dell'Oscar 2010, nella categoria cortometraggi. Quest'anno riflettori puntati sull'animazione tunisina in collaborazione con l'Ambasciata del Paese Nordafricano e una retrospettiva sull'animazione spagnola, in collaborazione con l'Istituto Cervantes di Roma. Per questa settima edizione di Cortuns, creato dall'Associazione Culturale Cortitalia, i film in concorso arrivano da oltre tre anni, accanto alle proiezioni anche eventi speciali, seminari e workshop, tra gli altri quelli dell'Accademia Italiana dei Videogiochi. I said goodbye, I went my head, as it doesn't go fly.